Barbata, cosa ci aspetta quest'anno a questa nuova edizione dello Shaka Comics? Quest'anno ci aspettano un sacco di cose, 7-8 settembre al Museo del Carnevale, ci saranno fumetti, fumettisti, videogames, ci sarà tanto intrattenimento incentrato sui più piccoli, nello specifico animazione, mascot, ci saranno i face painting, body painting dedicato ai più piccoli, ci saranno tornei videoludici, tornei di giochi da tavolo, ci saranno anche tantissime altre attività connesse ai giochi che possono sembrare solo videogames o giochi da tavolo, ma c'è tanta altra roba tipo i giochi di ruolo, tutte queste attività condotte peraltro da gruppi specifici che si occupano ognuno della sua storia artistica nel quale veramente sviluppare quella che è la tua idea di intrattenimento. Avremo anche la musica il sabato con il concerto delle merde che faranno tutto il repertorio italiano totalmente dissacrato e a seguire il Gotham set di Felix Alba, nostro grande DJ che peraltro saluto qui di Shaka. La domenica avremo una delle cose più importanti, l'influencer Lavaland che si esibirà in un concerto con canzoni Disney e tante altre attività incentrate all'intrattenimento dei più piccoli. Peraltro avremo anche la possibilità di parlare sia sabato che domenica con Matioschi, che è uno youtuber famosissimo che ci darà degli intrattenimenti con i suoi programmi Le Amiche Intime di Matioschi, Facce da Nerd, dove potremo fare tanto approfondimento su serie tv, sul cinema, su tutti i prodotti usciti nell'ultimo minuto e al quale si potranno fare delle domande e interagire con lui. Poi c'è talmente tanta di quella roba che l'unico modo per scoprirla è guardate le nostre pagine social, guardate costantemente i nostri aggiornamenti perché diluirlo in una breve riduzione è impossibile. Grazie e spero che ci sarete.